Una serata dedicata dal maggio musicale fiorentino al compositore contemporaneo Salvatore Sciarrino, musica di oggi ma con forti legami con i maestri cinquecenteschi del madrigale. Gianni Mamoliti. L'omaggio a Salvatore Sciarrino si apre con un altro omaggio che a sua volta il compositore siciliano rivolge ad un grande madrigalista del 5600, Carlo Gesualdo da Venosa, in occasione del quattrocentesimo anniversario della morte. Si tratta di Gesualdo senza parole, una composizione del 2013, una prima esecuzione assoluta anche se Sciarrino non è nuovo a rielaborazioni del materiale musicale di Gesualdo. Esecuzione andata in scena alla Pergola nell'ambito del programma del maggio musicale fiorentino. Sul palco il Contempo Art Ensemble diretto da Vittorio Ceccanti, violino solista Duccio Ceccanti. Lo stesso ensemble che di Sciarrino eseguì in prima assoluta, sempre al maggio, anche la Aspern Suite del 79, riproposta alla Pergola insieme ad un'altra anteprima assoluta, Le Stagioni Artificiali, composizione del 2006. Un omaggio doveroso ad uno dei compositori italiani di oggi più importanti, difficile da classificare, in ogni caso capace di conciliare la modernità con le nostre radici. Un omaggio del concentrato per